ciao sono salvatore meccio sono musicista suonatore di chitarre e battenti e costruttore dei miei strumenti e oggi ho il piacere di presentarvi questi due modelli di chitarra una è una 14 corde e una 10 corde la particolarità delle mie chitarre battenti è che sono con i tasti in budello questo dà lo strumento un suono più dolce che si avvicina molto agli strumenti a corda della diciamo del periodo barocco vi faccio sentire un po il il suono e vi faccio sentire anche la 10 corde grazie a tutti grazie a tutti spero che vi piacciono e se avete voglia di scoprire qualcosa in più su questi strumenti potete contattarmi ciao grazie a tutti